Ciao belli, oggi sono a Lamont, è un paesino di montagna, è piccolo, circa 2000 abitanti ed è detto anche il paese del fagioli, pensati che roba, adesso vi faccio vedere il centro ok questo è il centro di Lamont, come vedete è un centro molto grande bene anche affollato e c'è tanta gente, insomma, quello qua e dopo aver visto questo lussuoso, grandissimo centro che Marco Dubai se lo può permettere iniziamo la passeggiata verso il lago Senegaya eccoci qua, siamo arrivati al lago questo è un lago artificiale ci hanno messo 100 uomini, ci hanno pisciato dentro e è venuto fuori questo lago musica 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 Grazie a tutti. 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 Dino McCallo. Questo rago qua infatti è più grande di quello che avete visto prima. Anche in questo lago qua fate un percorso ad anello. Fate il giro del lago, è un bel sentiero, tutto pieneggiante e vi ci vorrà circa un'oretta per fare il giretto. Eto, bene raga il percorso è stato completato, noi ci dirigiamo verso casa, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete e anche iscrivetevi. Bye, bye.